Sono scaduti lo scorso 22 di febbraio, i 90 giorni, dal cosiddetto decreto salvabanche, termine entro il quale, almeno sulla carta, era possibile presentare querela per truffa da parte degli obbligazionisti di Banca Etruria e delle altre tre banche oggetto del decreto. Da allora di acqua, anzi di carte, sotto le mani di avvocati e associazioni di consumatori ne sono passate tante. Le querele singole sono circa 300, mentre i risparmiatori, che si sono rivolti a Fedel Consumatori Arezzo, sono 1.500, un numero destinato ad aumentare, secondo il presidente Pietro Ferrari. Teoricamente scadono i termini, nel quanto sono 90 giorni che è stato approvato il decreto e quindi si va al 20 febbraio come data ultima. In realtà la querela, uno la può presentare, secondo il mio parere, ma anche secondo parere di alcuni legati, dal momento in cui viene a conoscere che ha ricevuto effettivamente un danno, un raggiro o una truffa, come si suol dire. E questo quando è che lo può venire a sapere? Nel momento in cui, per esempio, legge i documenti, gli vengono consegnati alla banca i documenti, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che parecchie di queste persone, quasi tutte le persone, non hanno mai ricevuto la documentazione dalla banca. Quando riceve un MIFID e vede che ci sono dei dati alterati, in quel momento gli è stato attribuito un profilo più alto di quello che lui viceversa avrebbe dovuto avere attribuito, a quel momento lì può decidere di esporre querela se ritiene effettivamente di essere stato truffato. Perché abbiamo trovato nella documentazione nel corso dell'esame della quale si vede che ci sono palesemente le alterazioni. Io faccio un esempio, tanto per intenderci. Prodotti venduti nel 2006, MIFID è fatto fermare nel 2008 con un modulo che è entrato in vigore nel 2007, perché l'applicazione della normativa sulla MIFID è del 2007. Si vendono prodotti nel 2006, si utilizzano documenti nel 2007 e il computer del registro nel 2008. E palesemente quello è un contratto post-datato, post-firmato, è stato firmato dopo che è stato venduto il prodotto. Questa roba non si può fare. E questo è un contratto nullo, questo per dirne una. Intanto i vertici della nuova Banca Etruria sono andati in procura per un colloquio, sembra informale, con il procuratore capo di Arezzo, il dottor Roberto Rossi. Li vediamo in questo video pubblicato dal quotidiano Corriere di Arezzo. Roberto Bertola, la D di Banca Etruria, è il presidente delle quattro banche, Roberto Nicastro, mentre appunto escono dalla procura Aretina.